Bentornati su MyFootballJersey. Rivediamo una maglia che avevamo già visto in precedenza, trovate qui in alto recensione. Questa è la seconda maglia dell'Arsenal, questa volta in versione Fan. Fan. La maglia è sicuramente molto bella, come ho già avuto modo di dire, particolare fuori dagli schemi. Il costo, lo vedete qui sopra, anche questo è fuori dagli schemi, veramente bassissimo. Se volete ordinare la maglia, trovate tutti i riferimenti qui sotto in descrizione. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi il costo di prima diventa ancora più basso. Prima di salutarvi, se volete vedere nuove recensioni, mi raccomando, iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, ma si permette di offrirvi sempre nuovi video. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Ciao! 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 Ciao!